E' diventata una realtà importante per tutta la nostra comunità e ancor più in questi anni un po' di disorientamento col covid, le guerre dopo, quindi essendo un punto di riferimento per quella che è l'editoria rivolta ai bambini, parliamo proprio di fiabe. Le fiabe ci aiutano un attimo ad estragnarci da quelli che sono i problemi della realtà e parlo per noi adulti, non solo per i bambini, servono per mettere insieme le famiglie quindi i genitori e i bambini che vengono a visitare la mostra e l'esposizione insieme ma come ogni anno vengono trattate anche delle tematiche particolari attraverso appunto delle fiabe che consentono di inquadrare, vedere il mondo anche con occhi diversi come ho detto anche prima nella conferenza stampa. Quindi il segreto di questo progetto culturale, perché di questo stiamo parlando, è proprio quello di continuare ad innovarsi per restare al passo con i tempi senza perdere mai comunque il punto di riferimento che sono i bambini. La nascita di questa mostra risale addirittura agli anni 1983, quindi abbiamo 41 anni di storia e il traino internazionale è stato necessario per poter effettivamente dare un prodotto di qualità perché se non ti confronti con gli altri, se non ti apri agli altri, difficilmente riesci in qualche maniera ad avere dei prodotti dal punto di vista artistico di alta qualità. È stato un lavoro a lungo molto pesante perché effettivamente c'era un intero paese che collaborava con questo artista cieco e che aiutava anche una comunità, una comunità di artisti che si era creata attorno a questi profughi ciecoslovacchi che sono emigrati nel 68 e che ha visto anche la partecipazione di artisti importanti, di persone importanti a Sarmede come la moglie di Havel, Presidente Havel, come il futuro Ministro della Cultura della Repubblica Ceca, Pavel Landowski. Insomma, eravamo in una situazione astrale importantissima prima dell'Unione Europea e con una gran voglia di tornare a vedere un'Europa più libera e non divisa in due blocchi. La fondazione, oltre alla mostra internazionale, Ha creato una scuola di illustrazione che, non voglio vantarci di questo, però è la prima scuola internazionale di illustrazione creata in Italia sull'albo illustrato. E a questa scuola internazionale di illustrazione è stata frequentata da circa 500 studenti all'anno in presenza e ora anche online e si avvale di un sistema che secondo me è antico ed è adatto soprattutto in Italia. È la bottega dell'arte, cioè noi chiamiamo i migliori professori di illustrazione, di arte, anche dall'estero, dalla Spagna, da altre nazioni, dalla Francia soprattutto anche, e li facciamo, diciamo, immergere assieme a 15-20 studenti per 6-7 giorni, quindi 7-8 ore al giorno. Questo si tratta di emulare un po' la bottega dell'arte del passato. Poi è nata anche l'attività di mostri itineranti, sono state più di 500 le mostri itineranti nel mondo e in Italia, sommate a quelle del 41 della mostra internazionale di illustrazione, tra cui anche sedi prestigiose come il Museo Reina Sofia Madrid, il Saint-Pompidou a Parigi, siamo stati a Xi'an in Cina, in sostanza poi a Istanbul, e quindi questa mostra è diventata internazionale. E questa è la parola magica, aprirsi. In questo momento soprattutto bisogna aprirsi e riuscire a comunicare queste cose a livello culturale può essere importante anche per una crescita comune. C'è una mostra che diventa manifestazione culturale, divisa in quattro sezioni e due presenze. Abbiamo un ospite d'onore, una sezione di panorama e una sezione di pedagogica collegata al tema. Entrambi hanno un filo conduttore che è il tema di questo anno, che è orizzonte e confini. È una riflessione collegata alla forma come gli artisti e la letteratura, soprattutto l'illustrazione infantile, ha riflettuto sui confini, sempre collegato al porvenire. Cioè, invece di pensare in una geografia limitata, si pensa ai confini o a una perimetrazione collegata sempre a quello che posso fare o quello che posso andare oltre. Da lì il binomio confini-orizzonte, perché sempre c'è qualcosa da andare avanti quando io inizio a delineare i miei perimetri. Sono testi classici, come Pinocchio, come Gulliver, come Icaro, che parlano un po' su questo tema e che gli artisti ci fanno scoprire di una forma diversa attraverso le metafore, attraverso il suo arte.